La pressione sempre maggiore che si registra sulla discarica timpazzo da mesi usata per conferire rifiuti che arrivano da più province dell'isola forse potrebbe essere allentata con il trasferimento dei conferimenti fuori dalla regione. La linea del governo musumeci nelle scorse ore è stata illustrata dall'assessore Daniela Baglieri, intervenuta all'ARS. L'esponente del governo siciliano ha risposto soprattutto al deputato grillino Nuccio Di Paola. Il pentastellato è tornato sulla vicenda rifiuti, già denunciata mesi fa in aula, sollevato tutte quelle che considera vere falle gestionali in un sistema rifiuti regionale che ha definito fallimentare. In questi quattro anni il governo musumeci ha fatto, per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, la politica del bla bla bla. Dichiarate il vostro fallimento e la data dove già l'avete dichiarato è il 13 aprile del 2021, assessore. Perché il 13 aprile del 2021, dopo ben quattro giorni, dopo pochissimi giorni della pubblicazione del piano rifiuti generali, voi avete messo un'evidenza pubblica per portare i rifiuti all'estero. Eccola qua, 13 aprile 2021, segnata al protocollo 14630, del 13 aprile 2021, qualche giorno dopo la pubblicazione del piano rifiuti, voi, il vostro governo, i vostri uffici, facevano un'evidenza pubblica per portare i rifiuti all'estero. Era inevitabile che il deputato toccasse principalmente il capitolo timpazzo. Da mesi il sito riceve quasi mille tonnellate al giorno, con rifiuti che arrivano soprattutto dai comuni che prima conferivano a Lentini. A sei mesi da quel provvedimento non sono state attuate neanche le prescrizioni previste. Il parlamentare gelese ha sottolineato come si stia ripetendo la situazione amministrativa del 2013 legata all'autorizzazione integrata ambientale. Avete aumentato il quantitativo delle tonnellate di conferimento a quella discarica e nello stesso tempo avete chiesto a quell'SRR, a quel territorio, noi vi aumentiamo i rifiuti giornalieri perché in qualche modo ci aiutate a gestire l'emergenza, però dovete ampliare la discarica. Ebbene, Assessore, all'interno di quel documento ci sono delle prescrizioni che devono essere attuate. I sei mesi sono scaduti, Assessore. Le prescrizioni dovevano già essere attuate perché le prescrizioni sono già vecchie che riguardano il passato ampliamento della vasca e si riferisce al 2013, all'AIA del 2013, prescrizioni che lì non sono state fatte. Oggi voi dite di fare un nuovo ampliamento dando ulteriori sei mesi per fare quelle prescrizioni. I sei mesi sono passate. Le prescrizioni per l'impatto ambientale non sono state realizzate. Di Paolo ha puntato i riflettori sulla durata della discarica dopo l'allargamento dei conferimenti con le conseguenze che ricadranno interamente sui cittadini. Stiamo parlando di circa mille tonnellate al giorno che vanno in quella discarica. Stanno conferendo circa 150 comuni in quella discarica. La discarica durerà un anno, Assessore. Un anno se ci va bene. Un anno. Oggi l'Assessore Baglieri dovrebbe incontrare i rappresentanti dell'SRR siciliana. Il Governo avrebbe individuato fondi per circa 45 milioni di euro per trasferire i rifiuti fuori dall'isola almeno per i prossimi tre mesi. Cosa accadrà dopo non è ancora chiaro. Voi al momento avete 45 milioni di euro per gestire i rifiuti fuori dalla Sicilia. Solo per la provincia di Palermo ce ne vorranno cento di milioni per mandare i rifiuti in Sicilia. Come farete per tutto il resto della regione? Ecco perché vi dico, ecco perché vi dico, ecco perché vi dico, vi do un suggerimento. Dichiarate il vostro fallimento. Andate a Roma e andate lì a dire abbiamo fallito nella gestione dei rifiuti. Ci servono soldi per gestire questa emergenza sanitaria. La disamina pubblica di Di Paola, che si è rivolto nuovamente all'Assessore Baglieri, arriva mentre l'amministrazione comunale ha inviato la relazione sulla possibile attivazione dell'Aro per il servizio rifiuti in città e con la SRR4, che attende di capire quali saranno le prossime determinazioni su Timpazzo.